Siamo di nuovo da soli ragazzi, bentornati a Radio F185, la radio dei single d'Italia. Com'è andata la vostra serata? Noi abbiamo visto primo appuntamento, che nel nostro caso non importa, perché è la live dei single. Noi non facciamo i primi appuntamenti, non facciamo proprio gli appuntamenti, noi facciamo solo sesso. Allora, io volevo provare UFUFU, che è una roba che, come si dice, questa roba di voti, voti, tipo un... non lo so, avete capito, avete capito. E voglio vedere se riusciamo a farlo. Voglio scrivere, tipo, facciamo best minecraft block, vediamo se esiste. Minecraft mob... no, voglio minecraft blocks. No, non c'è, sono triste. Sono veramente triste, ragazzi. Pa 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 rapo, pi pa pa rapo. Vai, facciamo best minecraft mod. Mob. Bene, scusatemi. E adesso giocheremo a UFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUF Pa 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 ra po Pa 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 ra 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 Allora Come vedete ho Favorite Minecraft mob Round of 32 Anzi no Round of 64 Ci sono 45 candidate Vediamo Let's go Oh Allora Allora Iniziamo con i discorsi seri Coniglio e pillager Oggettivamente Il pillager è molto migliore Perché il coniglio non serve a un cazzo Non serve veramente a niente Cavallo o Wither Skeleton Ah intanto voi ovviamente Votate anche voi in chat No Wither Skeleton ragazzi Tutta la vita Lama o Guardian Ovviamente il lama Il lama bellissimo Che sputacchia Fa le sue cose Ah mucca o il vuoto Perché purtroppo ci sono Delle cose vuote Mucca Maiale Lama tutta la vita Vè il lama bellissimo Phantom 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 sono bellissimi di design Ma sono veramente inutili in game Tranne per l'Elytra Dio santo Blaze Minchia Blaze vince tutto Secondo me Speedur Oh ci sono L'Axolotl Cazzo ci saranno delle scelte Veramente complicate A un certo punto Adesso dobbiamo passare Oh Volpe o scheletro Scheletro Orca bestia Questa è tosta Perché lo scheletro è Oggettivamente Utile Però cazzo la volpe è carina No volpe È più carina la volpe Non posso dire niente Wither Wither mi fa cagare comunque Squid o Ghast Vabbè A mani bassissime ragazzi Il Ghast Ma vi pare Il papaghetto Bellissimo il papaghetto Ghast Enderman orso polare Vabbè Vabbè Ma sono facili queste Gattino Gattino mio mio Snow Golem Evoker Buono studio Vamp Io vi direi Evoker Quasi quasi Vi direi Silver Fiscino Perché lui si muove È l'unico che si muove A caso Villager Va bene Oh Chicken o Shulker Sapete già la risposta La sapete La sapete Perché io sono Un cazzo di fenomeno Ma sicuramente Tartaruga O Ravager Allora Tartaruga Ha Il suo perché Però il Ravager Onestamente Fa molto ridere No mi dispiace Più carino il Ravager È più particolare Pappagallo Pappagallo Eh pappagallo Pistrello O Drowned 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 Ma che che bat Pecra Delfino O strega Ovviamente Il Delfino Tutta la vita Ma che domande sono Ma che domande sono Slimo Uh Slimo Ape Ape Tutta la vita Ape Tutta l'esistenza Dog Snobby Creeper Poi c'è un'altra votazione Finchè non si trova il vincitore O non so come funziona Potrei non sapere come funziona Eh ve lo dico Ah ecco Ora iniziano le cose Lupo O Ender Dragon Vabbè Ender Dragon Cre- No aspetta Ok Ora si stringe Eccolo Ora inizia La crema Mucca O Blades Blades Tutta la vita Fantom o zombie Fantom Mi dispiace Mi dispiace Lo so Lo so Più bello Più bello Spider O Evoker Spider Evoker è così Boh inutile Poraccio Gatto o Ghast Ragazzi voglio sentire Voi cosa direste Tra Gatto e Ghast Posso essere onesto Posso essere onesto Voglio sapere Cosa mi dite Tra Gatto e Ghast Perché Secondo me è interessante Gatto Gatto Giusto Magma Cube O Ravager Allora non sono Particolarmente Affezionato a nessuno Di due Però il Magma Cube È più carino Che si fa tutto Si sminchiola tutto Lui Volpetta Weeder Volpetta Ha mani bassissime Volpetta Ragazzi Picora Uuuuh Questa è tosta Ciao Rob Quando ti scadrà Potrai farla Con il bellissimo Prime Che vedo lì Ragazzi Si apetta Tutta la vita La petta A mani proprio Bassissime Iron Golem O Wither Skeleton Ora iniziano Le cose complicate Le cose complicate Golem Golem ragazzi Golem Io non dico niente Io so già cosa Cosa prendere qua E secondo me Sarà la cosa Vi stupirò Vi stupirò Ragazzi Silverfish 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 Tutta la vita Capito un cazzo Maiale Ender Dragon Vabbè Drago Weeey Matar Grazie per la sub Ma grazie mille Mua Ma lei è un bellissimo uomo Grazie 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 No raga assolutamente Pufferfish O lama Pesce palla Pesce pallotta Pesce pallotta Tutta la vita Pappagallo Pillager Quivering Clit Ui Grande Matar Grazie mille Per la sub donata Ragazzi Ringraziate Ringraziate Pappagallo Comunque Pollo O Drowned Vabbè La sapete La risposta Ragazzi Io sapete Che ho un problema Cane O villager Canetto O villager Canetto O villager Canetto 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 Eh raga Eh raga Qui non c'è niente da fare Qui non c'è niente da fare Lo sapete anche voi Lo sapete Sapete la risposta giusta La sapete Cioè non c'è niente da fare Oh Matar Ma che bello rivederete qui Panda o creeper Uh cazzo Eh il creeper C'ha C'ha una bella storia dietro C'ha una bella storia Eh no Il creeper C'ha una bella storia Stiamo iniziando Ad arrivare Sulle mie cose preferite Pappagallo Comunque Assolutamente Assolutamente Pappagallo Blaze o phantom Posso dire Che è più bello Il blaze Posso dire Che è molto più bello Molto meglio Il blaze Vabbè Vabbè Onesto È facile qua Questa è tosta Volpetta o cane No mi dispiace Volpetta Mi dispiace ragazzi Volpetta No No Gatto silverfish Cazzo gatto silverfish Gatto ma ha mal in cuore Ha mal in gatto Ha mal in gatto davvero Regà Ve lo dico Ha mal in gatto Apetta o iron golem Qui si va sempre di più sul difficile Sul difficile Apetta Pepetta Pepetta vera Pesce palla o ender dragon Pesce palla Senza neanche pensare Pollo 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 Pufferfish O blades 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 Pappagallo O Volpe Pappagallo Raga Pappagotto Axolotl O gatto Axolotl Axolotl No Questo è un dilemma etico Questo è come scegliere Se vuoi più bene alla mamma Al papà O allo zio Che la mamma dice che è lo zio Ma in realtà è quel signore Che vedi che arriva sempre E si chiudono in camera Per tipo 5-6 ore Prima che tuo padre torni a casa Pollo Pollo Niente da fare Pollo Blaze Pollo C'è niente da fare C'è niente da fare Non c'è un cazzo da fare Axolotl Axolotl Ufff No Raga Axolotl Mi dispiace Mi dispiace Per quanto mi piace il pollo Niente da fare Niente da fare Minchia Championship rate Cioè win rate Altissimo il pollo Il Il coso L'Axolotl Vince quasi sempre Sono un normalone bastardo Ragazzi Il pollo sarebbe stato diverso Perché non se lo caga Nessuno Vediamo un po' se adesso trovo Youtuber Italiani Ma C'è youtuber italiani Raga Andata Andata Mega torneo Con molti youtuber italiani I don't know What to say I'll say it anyway 64 candidati Non ci sarò io C'è Tony Tubo O Johnny Creek Johnny Creek Johnny Creek Ragazzi A mani basse Manuxo O La Sabri Minchia Questa è una gara Perché Non è che mi stiamo Cioè Pur di non votare Manuxo Ragazzi La Sabri Che domanda Che domanda Che domanda sciocca Giampi Tecociccio Beh Ragazzi Assolutamente A mani bassissime Cazzo Il vostro caro dextero Henry Lazza Henry Lazza È quello che fa il calcio Degli elite Facciamo così Che è meglio Enfire o Tirlos No Grave questo Com'è possibile Enfire o Tirlos E boh Tirlos Però Qui Anche qui È scegliere Mamma papà Shale Boom O Marizzo Merluzzo Non so chi sia Shale Boom Quindi Tosto Ainubo Dread Vabbè Questo è No Non così No Iacchio Surry Cazzo Eh Mi sa che sceglierò Surry Alla fine Però è stato grave Raga Favi J.O.M. Vabbè Il grande Fava Mio frate Thomas Sangre O Muschio Selvaggio Manco ci devo pensare A che amico Muschio Selvaggio Non dice un cazzo Anima o Fuse Gamer E qui è come scegliere Tra mamma e papà Però al contrario Chi mi piace meno Secondo voi Sceglierò Anima Però È una scelta sofferta Murri o Il Masseo Mi dispiace Murri Mi dispiace Qui c'è Una supremazia da difendere Vegas o Gabbo di Squared Allora Vegas Sarebbe da vincere Da far vincere Solo perché è un genio Ma è a Gabbo di Squared Nothing to say Fievic Con tuoi Pivlas TV Fievic Fievic Ma ci sarò io In sta roba Secondo me non mi hanno messo Daniele Brogna Che non so chi sia O Luis Vado per Luis Mike Shosha O I De Show Maicone Maicone mio Ron O Franchino Dirò Ron Dirò Ron Perché ho grandi ricordi di Ron Stepney o Yotobi E vabbè Yotobi probabilmente vincerà anche Kendall o Sick Wolf Non so nessuno dei due Quindi Kendall ZV Jackson E Parrins Lui fa calcio Lui fa Minecraft Vabbè Direi che conosco di più Conosco di più Minecraft Alberto Nasca o Sodin Nasca è il pilota Sodin fa FIFA Probabilmente Di più Nasca Di più Nasca Mio bro Mio bro assoluto Nasca Mi scrivono cose minacciose In chat Off Samuel E' vero C'è anche Michele Molteni Che è Un mio grande Broski Niente da dire Frax Raga Frax Non lo sento da Mille anni Io lo amo E' un mio grande bro E' un mio grande bro Frax Io gli voglio bene Ma Sto Sto venendo Spitrostato da Frax o Brazzo Probabilmente Frax Perché quando faceva Cod lo seguivo Blur O Nova Alexio E' Blur 2014 2019 Nova Alexio Tutto or bene Me contro te O Ale della giusta Tosto Tosto anche quello Deluxe Ragnar GK Io non so chi sia Ragnar GK Deluxe Vabbè si è Deluxe Dai Deluxe Mani basse Cazzo Sono triste però Non mi hanno mica messo Raga Cioè hanno messo Gente che non ho mai visto In vita mia Non l'hanno messo me Un po' personale I'm Violet o Tatino Violet non è una streamer Più che una youtuber Ehm No mettiamo Tatino Mettiamo Tatino Mettiamo il mio Tatino Tatone Gmatrio Tomasina Beh Tomasina è assolutamente Un chad della madonna Ehm Veramente Dio The Frenchmall O Mr. Flame Io non so chi siano i Frenchmall Mr. Flame non vorrei votarlo Però Dai Oh Non ci sono Gabbo Meno Federico Marconi Non vi conosco Non so chi siete Non ci sono Nirkiop Per Per le memorie Sono veramente offeso Ve lo posso dire Nova Alexio Favij Dai Favij Johnny Creek o la Sabri Johnny Creek Johnny Creek Comunque Danny Lazzarino Tearless Mi dispiace Tearless Io ti amo Però devo farlo Ma come un grande Mr. Flame Ui boh Fratomo del mio cuore Tomas Sangri o Maurizio Merrusso Tomas Sangri Sta simpatico Surry o Fieric No Mi dispiace Fievic Devi andare Sì io li ho smaltiti L'energy drink Di brutto Ma un botto anche Ciccio Gamer Vostro card extra Vabbè Scelta abbastanza ovvia Yotobi o Mike Shosha Mi dispiace Mike Mi dispiace Mike Mi dispiace tantissimo Ale della Giusta o Il Masseo Ale della Giusta È un pazzo furioso Ainubo Molteni Anche qui è doloroso Ma bisogna scegliere Drono Luis Luis Per quanto Anima o Parrins Anima Tossa questa Nasca o Frax Frax Ho seguito molto di più Niente da dire Deluxe o Inirchiop Inirchiop Ho seguito molto di più Inirchiop Gabbo di Squaredo Tomasin Tomasin per quanto ormai Non faccia più un tubo Kendal o Mr. Flame Kendal Sta simpatico Non so chi sia Federico Marconi o Tatino Federico Marconi Anche se Continua a non sapere bene Chi tu sia Favij o Kendal Favij Non vuoi bene Non vuoi bene i tuoi colleghi Certo che li voglio bene Alla della giusta Purtroppo a mani basse Yotobi O molte Eh no Mi viene da dire Yotobi Cioè È più È più Il mio È il mio bronce Posso fare un cazzo Surry Assolutamente Danny Lazzarino Tomasangri Danny Danny è Il mio albero genealogico Tre volte Luis Ciccio Gamer Mani bassissime Frax o Tomasin Tomasin Ok Tomasino Favij Tomasin Niente da dire Proprio lui Yotobi O Danny Lazzarino Yotobi Yotobi Grazie Matar Grazie mille Matatr Ale della giusta O Surry Matatr Gifti dati Arun sub Tu piova 005 Cazzo Questo è tosto Devo dire Ale della giusta Devo dire Ale della giusta Ragazzi Ciccio Gamer O Luis Posso essere Sovversivo Sono un pazzo Sono un pazzo Io ragazzi Ale della giusta O Ciccio Gamer Ale della giusta Yotobi O Tomasin Eeeh Yotobi Mi dispiace Yotobi È difficile Da raggiungere Ale della giusta O Yotobi No È Yotobi È Yotobi Yotobi È il mio albero genealogico Su Youtube C'è niente a fare È lui Non mi interessa Non mi interessa E Quello che vince di più È Mike Shosha Seguito da Favij Seguito da Blur Da Ciccio Gamer Yotobi È solo al quinto post Ah no Ma sono a caso What Ah Championship rate Vuol dire Ah Ah no Sì È comunque quinto Yotobi Col Cioè col 5% Ma è fuori di testa Ragazzi Ma non è possibile È sotto Blur È sotto Ciccio Gay Come Boh Sono veramente confuso Raga Veramente confuso Molteni undicesimo Tearless dodicesimo Chad Grande Chad Allora Facciamo una cosa Ragazzi Dato che il sub goal A 500 è Un po' più impegnativo Un po' impegnativo Facciamo un cambio Di sub goal Vi va? Mettiamo una roba Un po' più vivibile Mettiamo Allora Sub goal Edit Mettiamo qualcosa A 400 sub Che è molto vicino Quindi facciamo una roba stupidina Che ho già So già So già cosa fare So già cosa fare È molto stupido Ma non importa 400 sub Tutto Ok E Sub goal A 400 Io ve l'ho detto Io l'ho cambiato Perché non ti piace Mr. Flame? Perché non amo questo Quel trend di persone Che Boh Sono lì Tutti A fare i salottini Quelle cose Non me ne frega assolutamente niente No raga 400 sub Ci facciamo La Tutta La maratonina Dove ci guardiamo Tutto schivi di toilet Dall'inizio alla fine Nothing to say Allora Cosa possiamo fare di Vediamo Schivi Italia Cosa esce? Pipponi Italia McDonald's Italia YouTube Italia Twitch Italia Rap Italia Un altro Twitch Italia Torneo Warzone Italia Ma cos'è Jack? Jack Cosa? Musica indie italiana Canzioni trap Player Valorant TikTok Italia In che senso All'inizio alla fine C'è una storia Sì c'è una lunghissima storia Raga Miglior cantante in Italia YouTube Twitch Italia Disastre Top Top rimasti TikTok Italia La più bella Di Twitch Italia Ma è curo È cubo lili Le migliori Le ragazze Madonna Tutti arrapati Ragazzi Ma quietatevi Pezzi di culo Siete veramente Delle merde Vediamo Facciamo TikTok Italia Vediamo se so qualcosa Ragazzi Ah ma voi non state Vedendo Molto ridere Allora Vediamo un po' Play Vai Danny De Gaggio O Amos Non li conosco Nessuno dei due Valerio Mazzei O Nicola Sgoldoni Conosco solo Valerio Mazzei Però Antonio Sbancatore Subito Subito Lui Marco Togne Subito anche lui Sykes O Patrizio Morellato Porca troia Conosco solo Sykes Per quanto Mio Dio Non lo voterei Silvestro Gaia Cle Non so chi sia Non mi sta simpatico Però Sykes è grosso Sì ma mi ricordo Cosa faceva prima Pietro Storti No Assolutamente no Iris Di Domenico Sergio Cruz Pereira Lui mi sta simpatico Perché boccia Un nome complesso Gaia Bianchi O Luca Campolunghi Non conosco nessuno dei due Prendiamo lei Iris Ferrari O Samudi Non so chi sia sta gente Sofia Carisafulli O Duracell Duracell Una faccia simpatica Giulia Torino Emma Perché lei c'ha Nove anni e mezzo E lei ne ha Dieci e mezzo Cazzo mi sento a disagio A premere entrambi Dio Bono Lele Catani Andrea Fratino Lui non mi piace Che mi guardi in sto modo Parliamoci chiaramente Non mi convince Un cazzo ZV Jackson Simone Maiorino Guarda Piuttosto il calcio Piuttosto Lisa Lucchetta Alessia Lanza Alessia Lanza Ragazzi è stato un errore Alice Perego O Omar Falco Lui mi sta simpatico Lui ha una faccia Una faccia da broda fra Ha proprio una faccia da broda fra Timide Pizza Che lui lo conosco dal vivo Per motivi Omar Falco Mi sta sempre più simpatico Rispetto all'altro Valerio Mazzate Silvestro Bro Chiunque tu sia Mi stai simpatico Marco Togni Vero TikToker Lene Catania Non so chi sia Antonio Sbancatore Antonio Sbancatore Secondo me sarà una grande sfida Tra Sbancatore e Marco Togni Ve lo dico Ve lo dico ZV Jackson Timide Pizza Per Fozza Per Foggia Per Foggia Omar Falco Silvestro Sta più simpatico Omar Falco Nothing to say ZV Jackson Marco Togni Ovviamente Marco Togni Antonio Sbancatore Guarda che qui stiamo arrivando Cazzo No Niente ragazzi Qui c'è L'importanza Ci sono delle cose importanti Da gestire qua Eh no E vince Antonio Sbancatore Signori Mio padre No non voglio fare il login Ma che te sei un culo Però oggi io Faccio un po' come baglioni Perché Si è fatta una certa ora Sono un po' stanchino Che comunque oggi Mi sono allenato di brutto E E domani Come si dice Domani Si lavora di nuovo Niente da dire Ciao ragazzoni Ci vediamo presto Io vi lascio Buona serata Che bello guardare Mentre sono in pausa lavoro Allora